Benvenuti al giorno 1. Eh ragazzi, già iniziano le complicazioni. Quali sono le complicazioni? Finito a 34 km a lì che neanche la mia macchina ci arriva. Perchè non vogliamo l'oro, l'abbiamo capito col tempo, l'amore è il nostro tesoro e noi siamo la follia. Andiamo a riprendere i cantati e riprendere il drone che abbiamo qua con il nostro dronista. Speriamo che non cada il drone, se no finisce a fare il dronista, non il dronista. Dunque, non so, se la ragazza non mi risponde, vorresti farlo tu con me, se tu faresti il ragazzo, io con me. Siamo a gennaio, l'8 gennaio e arriviamo ad Andamadesi. Nascondiamo qua dietro, dietro un masso, magari con qualcosa che lo copre. Solo il drone dopo, stiamo a fare uno sport. Dai, facciamo così. Voglio fare un cantato. Dani, ce l'hai la musica? Siamo sul set del video clip di Mosi, artista milanese. Abbiamo finito il primo giorno di riprese, tra il freddo, la neve, il vento. Però ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a casa un buon lavoro. La risolviamo tranquillamente così. Perché mi dicono che sono vecchia? Ma non è assolutamente niente. Allora non mi frega niente. Però deve dappare. Perfetto, perfetto, si è così. Il mio figlio dopo stasera mi dice che sono matta e io... Ci siamo! Che poi mi avvicino e mi allontano. Ragazzi, questa canzone spacca. Quindi dovete iscrivervi al canale. Dovete far girare questa canzone perché ragazzi è una bomba. Stiamo impegnando, guardate qua, tutta questa roba. Cioè, è fantastico. Giriamo, ragazzi? Ah, siete passati dall'altra parte? Sì, noi adesso siamo... Esatto, esatto. Ragazzi, siamo in pausa e stiamo per iniziare con una delle scene più belle. Nel mondo, quella dei panini. Elia. Elia. Mentre lui è con i suoi amici e lei è con le sue amiche. Ciao ragazzi, abbiamo appena finito una giornata di riprese. Questa giornata di riprese mi hanno accompagnato due ragazzi super simpatici che producono birra. Ragazzi, la birra è fantastica. Se davvero ho bisogno di una vita più bella, io proprio non mi ci vedo, mi annoio solo a pensare ad una vita diversa da questa, ci hanno raggiunto i sogni, sì ma non era noi nostri. Devo fare qualcosa agli occhi. Salutare. Credo. Ciao Georgia. Ciao. E non c'è niente da dire, se stiamo insieme un buon motivo c'è, vorrei poterlo capire, se solo fosse così semplice. Questo è un POV, un cosiddetto punto di vista, più point of view di così, ancora un po' me la caccio nell'occhio. No way, no way. Gli lo dobbiamo ridare. Gli lo dobbiamo ridare. Voglio bene a Maxim e a Elia perché sono stati fondamentali. Grande Maxim. Elia dov'è? Elia! Ragazzi qua io ho bisogno di una pausa. Mario. Mario Luigi. Mario Luigi. Ragazzi. Grazie a tutti